buongiorno a tutti allora sto preparando questo motore che non ne vuole sapere di andare perché non ha più compressione purtroppo i pistoni originali mi sa che non ce la fanno a girare alti vi faccio vedere la novità la novità del canale è questa un 100 go car 100 comer motore presa diretta è arrivato oggi l'ho comprato oggi è un con un go car di qualche anno ma per mio figlio va molto più che bene e vedremo di fare qualche puntata una serie del kart con spiegazioni motore e poi neanche un altro motore di riserva di questo possiamo guardarlo aprirlo insieme vi ringrazio a tutti quelli che mi seguono per iscrivervi che sono iscritti il garage al mio canale e niente questa è una novità un go car comer 100 grazie a tutti ciao ciao e ci vediamo alla prossima